Buonasera a tutti ragazzi, oggi si troviamo la chiesa, il San Nicolò, la Cecina di Lazzano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo suonare la lista 9 punto e poi la Santa Messa delle 21 punto con la processione della banda di Cecina. Di frantampo lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la mezzana, la sonata mezzana e l'alcesso è una piccola corda. Adesso ascolteremo il battiore sul campanone, poi la melodia della primaria di Uld e poi la sonata della processione della banda di Cecina. Quindi a presto da Edoardo Campanello 2008, buon ascolto a tutti, ciao! 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 Grazie. 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 Grazie.